Musica Raffaella De Pasquale, il caso di dirlo, stasera a San Tommaso giochi in casa? Stasera sono a chilometri zero, giochiamo in casa ed è una cosa bellissima e una bella sensazione. Apriamo con te i festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso De Ricori, la vostra musica, che musica è? Allora noi abbiamo questa cultura della musica partenopea anche perché poi è la nostra prima musica, è quella che ci appartiene di più ed è quella che conosciamo ovviamente tutti. Noi l'abbiamo riarrangiata insomma per renderla anche un po' più ascoltabile e più simpatica un po' a tutti, per farla ascoltare e soprattutto ammirare da tutti, grandi e piccini. Ecco ai microfoni di Campania Tube Channel ci racconti un po' brevemente perché so che devi fare lo spettacolo, la tua esperienza come è cominciata? Allora per caso, per caso perché con Iviatoledo sono la cantante, l'unica voce femminile ovviamente in questa marea tra questi uomini, sono l'unica, ecco c'è il mio figlio che mi richiama. Tra tutti questi uomini è cominciata nel 2012, per caso e poi ci siamo voluti talmente tanto bene che stiamo andando avanti, stiamo portando avanti questo progetto di musica partenopea. Molto sinceramente facciamo il giro dell'Italia ogni anno per cui possiamo essere annoverati tra i gruppi un po' più conosciuti in Campania e questa cosa ci fa veramente onore. Poi stare qui a chilometri zero stasera è una cosa meravigliosa. In bocca al lupo. Crepi il lupo, un saluto a tutti di Campania Tube Channel. Ciao, dai via Toledo! 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 Salve un figlio che ha cominciato a cantare Sì, metodo, calarierà Senza guardare, tu continui a durare Questa vita, la volta là Tanto c'è stata, e parole c'è stata Che devia, vede e parà Con la trampa, adai, tu chieda l'anima La malvura, si non scende ancora Non lo so, non lo so, non lo so Sì, metodo Con la trampa, adai, tu chieda l'anima E parà, 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 tu chieda l'anima